Abbandonato da solo in casa, senza acqua né cibo, dai proprietari partiti per le vacanze in Colombia. Aveva solamente la possibilità di passare dal terrazzino al corridoio dove si trovava l'eltiera. Un gatto salvato dalla polizia locale di Treviso intervenuta insieme ai vigili del fuoco e all'empa in un'abitazione di strada Santa Buona Nuova. L'animale ha miagolato disperatamente finché dei vicini non hanno allertato le forze dell'ordine. Naturalmente è stato subito soccorso da parte degli agenti del nucleo di tutela animale che è stato istituito in comando da almeno sei mesi e che riceve tra l'altro ogni settimana almeno tre segnalazioni di cani o gatti che vengono abbandonati oppure vengono maltrattati. Naturalmente ricordiamo che si tratta di un reato penalmente perseguibile d'ufficio per cui anche il proprietario di questo gatto verrà segnalato all'autorità giudiziaria. La situazione in cui il gattino si trovava era estrema una volta recuperato è stato portato dal veterinario, visitato e infine accolto nel gattile di Conegliano. Storie che purtroppo spiegano dall'empa ci arrivano quotidianamente. Eppure dovrebbe essere chiaro che episodi di maltrattamento come questo difficilmente rimangono impuniti. Questo animale d'affezione di questo gattino è la dimostrazione della grande attenzione da parte del comando di polizia locale nei confronti appunto degli animali di affezione che possono essere gatti, cani, comunque tutti gli animali che vengono mantenuti in casa. Dall'empa l'appello a chi sta per andare in vacanza. Assicurate al vostro micio le condizioni necessarie per il suo benessere quando partite. Spesso si sente dire che i gatti si arrangiano ma non è così. Come ente nazionale protezione animali continueremo a denunciare tutti coloro che abbandonano e maltrattano i loro animali.